Le battaglie per i commercianti eroi del terremoto, le proteste eclatanti come quella che lo vide barricarsi negli uffici della Banca d'Italia in centro storico all'Aquila contro le maglie troppo strette del credito e poi la lotta contro le anomalie della grande distribuzione in Abruzzo e dell'e-commerce che colpisce al cuore i commercianti al dettaglio compromettendo anche la tenuta dell'indotto. Celso Cioni, direttore in pensione della Confcommercio della provincia dell'Aquila dall'ottobre scorso, fa un bilancio dei suoi anni a fianco dei piccoli eroi del commercio. Hanno dovuto sopportare in questi ultimi anni tre shock il primo quella della crisi mondiale del 2008 poi il terremoto del 2009 poi il terremoto del 2017 e quindi hanno dovuto affrontare una serie di emergenze e di ricollocazioni in termini molto diciamo casuali perché la logica è stata arrangiatevi se potete si salvi chi può che non c'è stato nessun piano commerciale d'emergenza non c'è stata nessuna regola che potesse assicurare a loro una gestione tranquilla e normale. Perché ha avuto esigenza di protestare in maniera anche così clamorosa? Beh in quel caso c'era un atteggiamento delle banche nei confronti di queste persone che non avevano sicuramente spesi i loro soldi nei casino o con le ballerine ma erano state oggette di una tragedia enorme e c'era un atteggiamento anche molto tranciante da parte dei funzionari bancari. Per quella ragione i barricai facendo una protesta il giorno dopo il sottosegretario alla presidenza del consiglio Legnini mi telefonò per incontrarmi e ci fu un nuovo atteggiamento delle banche. Cioni mantiene la carica di direttore regionale ancora per un anno e in scadenza infatti nel 2020. La battaglia più importante è quella per difendere il commercio dagli acquisti online. Dopo ci sarà un'altra importante sfida per Celso Cioni al fianco dei volontari della fondazione Orlando nata per sostenere i commercianti colpiti dalle calamità naturali in Italia. Stiamo ragionando su queste ipotesi a cui io tengo proprio perché dal 76 mi confronto con queste tragedie ed ho imparato tantissimo non solo sul piano lavorativo ma soprattutto sul piano umano.